Con l'arrivo di agosto è scaduto il permesso di soggiorno in Russia che Edward Snowden aveva ottenuto per poter godere dell'asilo politico. Sono passati 365 giorni da quando lasciò l'aeroporto di Mosca entrando sotto la protezione del governo di Vladimir Putin. Secondo il suo avvocato e portavoce Anatoly Kucerena, Snowden in questi giorni può rimanere nel paese mentre la domanda di proroga è in fase di elaborazione, anche se formalmente in questo momento non gode di asilo politico. Dopo il botte e risposta con Putin dello scorso aprile, nelle ultime settimane non si sa dove si trovi l'ex agente di intelligence statunitense né che cosa stia facendo.